salve a tutti siete all'ascolto di insider dentro la tecnologia un podcast di digital people e io sono il vostro host davide fasoli oggi introduciamo il concetto di fan token nello sport calcio e come questa tecnologia basata su blockchain può creare un legame molto più forte tra tifosi e squadra prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana vi ricordo che potete seguirci su instagram a chiocciola dentro la tecnologia iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su spotify apple podcast google podcast oppure direttamente sul nostro sito la salerno reggio calabria è una delle autostrade più importanti e allo stesso tempo più difficili da gestire e mantenere del nostro paese nonostante ciò come un fulmine a ciel sereno è arrivato qualche giorno fa la conferma che la 2 diventerà il primo tratto autostradale in europa a poter contare sul titolo di smart road il progetto prevede infatti la copertura totale dei 400 chilometri che collegano salerno a reggio calabria con un'infrastruttura wireless di ultima generazione con l'obiettivo di rendere ancora più efficiente l'interazione tra strada utente e veicolo tra le tante applicazioni pratiche vi sarà la possibilità di avvisare tempestivamente i conducenti di eventuali incidenti rallentamenti o lavori in corso generando così percorsi alternativi nel più breve tempo possibile in futuro la smart road permetterà anche alle auto dotate di guida autonoma di sfruttare al massimo la loro capacità garantendo la possibilità per la prima volta in europa di percorrere i 400 chilometri senza l'intervento del conducente il 25 gennaio iliad ha presentato ufficialmente la sua offerta di connettività internet in fibra ottica per le abitazioni che sicuramente avrà un forte impatto sul mercato e sui clienti l'infrastruttura in fibra su cui si appoggia iliad per il momento è una parte di quella di open fiber visto che al lancio copre solamente alcune zone densamente popolate del nostro paese per un totale di 8 milioni di abitazioni un numero che molto probabilmente aumenterà nel giro di poco tempo la velocità massima che sarà possibile ottenere di 5 gigabit al secondo in download distribuiti tra più dispositivi e 700 megabit al secondo di upload iliad ha presentato anche un proprio box con la funzione di modem disegnato e sviluppato autonomamente sul box incomodato ad uso gratuito è anche presente un piccolo schermo che potrà mostrare un codice qr per facilitare l'accesso alla rete iliad porta questa connettività nelle case di chi la richiede con un costo di installazione di 40 euro e prezzo mensile di 16 euro per chi possiede una similiad e di 24 euro per tutti gli altri clienti l'uso dei robot nella medicina negli ultimi anni ha avuto un particolare successo soprattutto nell'ambito della chirurgia dove la precisione e la stabilità che un braccio meccanico offre può fare la differenza nella buona riuscita di un'operazione questi robot tuttavia sono sempre guidati e controllati da un medico esperto e non possono operare in autonomia almeno fino ad oggi pochi giorni fa è stato infatti presentato un robot chiamato star che è riuscito a effettuare con successo un'operazione chirurgica su quattro maiali senza alcun tipo di aiuto o controllo esterno l'obiettivo era quello di riparare l'intestino del maiale ricollegandone l'estremità operazione che richiede una precisione assoluta nell'applicazione dei punti di sutura e il tutto complicato dal fatto che l'intestino è un tessuto molle e quindi ha un comportamento abbastanza imprevedibile nonostante ciò star ha ottenuto un enorme successo nell'operazione mantenendola il meno invasiva possibile e dimostrandosi più preciso e affidabile di un chirurgo esperto chiaramente il controllo e l'intervento umano anche se minimo dovrà sempre essere presente in queste situazioni ma forse non manca poi molto prima di vedere dei robot chirurghi nei nostri ospedali si conosce bene il calcio italiano e ha premuto sul pulsante play di questa nuova puntata potrebbe chiedersi in questo momento perché c'è un giocatore dell'inter nella copertina di un podcast che tratta di tecnologia in effetti al di là di chi si possa trattare veder rappresentato un giocatore che indossa la maglia dell'inter soprattutto per un tifoso dell'altra sponda milanese potrebbe far storcere il naso in questo momento la cosa più interessante però dell'attuale kit del club milanese e che nessun altro ha è il nome della propria moneta digitale riportato in maniera così visibile e se vogliamo emblematica sul petto della prima maglia da gara e oltre a ciò se consideriamo il fatto che uno sponsor storico come pirelli sia stato sostituito da un nome di un'azienda che consente di scambiare denaro per gettoni virtuali come i fan token nel bel mezzo di una crisi economica mondiale il tutto diventa ancora più logico e significativo ed ecco perché la spinta ad adottare una soluzione così innovativa e di successo legata come vedremo a breve all'ambito delle criptovalute di cui abbiamo ampiamente parlato nella puntata dal titolo evidentemente provocatorio le criptovalute non sono il futuro e la concreta manifestazione della volontà dei principali club europei di cercare fonti di guadagno alternative in grado di ovviare all'assenza fisica dei tifosi allo stadio ma andiamo con ordine secondo la definizione più oggettiva del termine un fan token non è altro che un asset digitale operante su blockchain come le criptovalute appunto pensato per dare ai tifosi l'accesso a determinati beni e servizi che vengono offerti dalle stesse squadre di calcio possedere dei fan token consente infatti di ottenere vantaggi specifici come ad esempio sconti offerte riservate promozioni o persino acquisire un certo grado di priorità nell'acquisto dei biglietti delle partite un vantaggio quest'ultimo che si sta rilevando particolarmente ottimale in periodi come questo in cui la capienza degli stadi non può raggiungere la soglia massima di contenimento proseguendo con gli esempi il tifoso abbonato passateci il termine può addirittura arrivare a ricoprire un ruolo più attivo in scelte che riguardano il tema di un post da pubblicare sui social il merchandising il nuovo inno musicale da adottare per la nuova stagione calcistica e così via naturalmente il grado di influenza di un tifoso non è uguale per tutti esso dipende infatti dal numero di fan token acquistati e più se ne hanno a disposizione più saranno importanti le decisioni a cui si potrà prendere parte un caso esemplare è quello della roma la quale ha permesso ai tifosi in possesso di un certo numero di fan token di scegliere la livrea del nuovo autobus il brano che viene cantato allo stadio dopo i gol e la frase riprodotta nei tunnel che portano dagli spogliatoi al campo notiamo perciò che l'introduzione di questa nuova moneta digitale non ha solamente la potenzialità di incrementare il grado di interazione tra tifoso e squadra una caratteristica da sempre criticata al mondo del calcio ma può dare anche ai club la possibilità di tamponare le norme perdite economiche che si sono verificate negli ultimi due anni a causa della pandemia fatte le dovute premesse entriamo nel concreto di questa puntata e chiariamo perché questo settore emergente è strettamente correlato al mondo delle criptovalute oltre ad essere controllati tramite blockchain i fan token come le criptovalute sono soggetti a forte volatilità essendo strettamente legati alla moneta digitale con cui è possibile ottenerli ad oggi infatti la maggior parte dei fan token viene messa e gestita dalla piattaforma socios punto com la quale consente all'utente di poter creare un proprio portafoglio digitale per acquistare i chillitz ovvero la valuta ufficiale basata sul protocollo ethereum che dovrà essere scambiata per i fan token della squadra che è aderito al programma di socios capiamo così che essendo strettamente legati ad una criptovaluta la cui caratteristica intrinseca è quella di essere soggetta a forte volatilità il prezzo di acquisto dei fan token non potrà essere mai uguale nel tempo e dipenderà principalmente dal grado di successo che avrà all'interno delle tifoserie delle varie squadre in sintesi queste ultime insieme alla piattaforma di exchange socios in questo caso hanno il compito di fissare un prezzo di lancio iniziale in chillitz e il numero effettivo di fan token acquistabili fatto ciò il gettone viene reso disponibile per l'acquisto sul sito socios.com il cui prezzo rimarrà invariato per un certo periodo di tempo trascorsa infine tale tempistica l'offerta di lancio viene ufficialmente chiusa e il token verrà reso disponibile anche sulle altre piattaforme di exchange come binance per citare lo sponsor ufficiale della roma dove l'incrocio tra domanda offerta ne determinerà il valore di mercato attuale tornando ai club che popolano il nostro campionato in italia abbiamo imparato a conoscere meglio i fan token grazie a squadri come juventus milan inter roma lazio napoli e bologna senza dimenticare la nazionale campione d'europa 2021 ma è evidente che il trend di investire in un determinato bene anche se di fatto comprare fan token non significa possedere quote azionarie di una determinata società tra origine dal mondo cripto la cui popolarità diffusa su scala mondiale sta abbracciando sempre più persone in tutto il mondo e non è quindi un caso che oltre 90 società calcistiche e altre realtà sportive come team di formula 1 e di esports di cui abbiamo parlato nella puntata esports la nuova frontiera della competizione utilizzino piattaforme come socios.com per ripartire tra i sostenitori i propri gettoni virtuali in ambito calcistico i fan token con la più elevata capitalizzazione di mercato cioè il valore totale dei token in circolazione sul mercato sono infatti appartenenti a club europei tra i quali spicca il paris saint germain con una capitalizzazione di 49 milioni di dollari davanti al manchester city e all'atletico madrid con valori rispettivamente di 38,8 e 25,6 milioni di dollari per arrivare alla prima squadra italiana dobbiamo scendere alla quinta posizione della classifica stilata da coin gico in cui troviamo appunto la juventus con 25,6 milioni di dollari per capitalizzazione di mercato tornando al paris saint germain un fatto interessante che ha sollevato un certo clamore la scorsa estate è stato l'annuncio del trasferimento del giocatore messi dal barcellona alla squadra francese oltre alla gigantesca risonanza mediatica che ha avuto tale cessione a suscitare ancora più interesse stato l'annuncio relativo all'ingaggio del fuoriclasse argentino che prevedeva appunto un parziale pagamento in fan token attualmente non c'è dato sapere a quanto corrisponde la percentuale di tale retribuzione ma possiamo solamente immaginare che in un contratto biennale da 41 milioni di euro stagione la montare del numero di psg fan token deve essere necessariamente alto ma se da un lato ci sono club che promuovono l'acquisto dei propri gettoni virtuali attraverso i giocatori stessi dall'altro lato ci sono squadre che preferiscono conferire ancora più potere decisionale ai propri sostenitori in merito a scelte tutt'altro che secondarie ed è questo il caso dello young boys una società calcistica svizzera che proprio in questi giorni sta rilasciando ai tifosi in possesso di fan token un sondaggio che consentirà di scegliere quale sarà la divisa da trasferta della stagione 2022-2023 una decisione questa che lascerà sicuramente i tifosi della squadra svizzera più che soddisfatti dal momento che se si pensa a quanto dibattito creano ogni anno le ufficialità delle nuove maglie da gara il successo in campo di una squadra al di là che si tratti di calcio o di un altro sport deriva in buona parte anche dal sostegno e dall'approvazione della propria tifoseria a questo punto della puntata dopo aver analizzato cosa sono concretamente i fan token qual è la loro correlazione con il vasto mondo delle criptovalute e il ruolo che hanno nel legare ulteriormente la tifoseria alla squadra dobbiamo valutare anche gli aspetti negativi di questo mondo essendo i fan token appartenenti ad un settore fortemente deregolamentato come quello delle criptovalute l'acquisto dei gettoni virtuali potrebbe comportare per gli acquirenti diverse criticità vista l'assenza di tutele generali per gli strumenti finanziari sui quali si basano ed infatti la situazione di pericolo maggiore per i tifosi che intendono partecipare a questi programmi si manifesta nel rischio potenziale di perdere tutto buona parte delle somme investite nel caso in cui il valore di mercato del token diminuisse improvvisamente non va infatti dimenticato come già le criptovalute di per sé siano strumenti finanziari dall'alto grado di volatilità ma nel caso specifico dei fan token il rischio di elevate fluttuazioni è maggiore dal momento che per riconvertire la valuta corrente in token sarà necessario prima riconvertirli in chilis e poi vendere questa criptomoneta con un rischio di cambio finale praticamente raddoppiato detto ciò non possiamo non ricordarci dei numerosi pregi di cui abbiamo discusso fino a poco fa il fan token è infatti uno strumento particolarmente innovativo e sicuramente meno oneroso di un classico investimento azionario con l'ulteriore pregio però di poter generare oltre ad un guadagno da parte dei club che li hanno adottati anche un certo grado di fidelizzazione come quello promosso dallo young boys verso i propri sostenitori le criticità di questo interessante fenomeno si manifestano solamente nel caso in cui ci si vuole rapportare ad esso da un punto di vista speculativo pensando di acquistare fan token al solo fine di ottenere un guadagno su eventuali plus valenze del prezzo dei gettoni virtuali e dei chills rischiando quindi di perdere la partita e così si conclude questa puntata di insider dentro la tecnologia io ringrazio come sempre la redazione e in special modo matteo gallo e luca martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chioccioladentrolatecnologia.it seguiteci su instagram a chioccioladentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità noi ci sentiamo la settimana prossima